Giuseppe Paventi, responsabile di Molise Emergenza, perché oggi protestate davanti al Consiglio regionale? Noi veramente protestiamo per un provvedimento effettuato il 4-10 corrente mese, dove hanno messo degli importi di rimborsi per quanto riguarda il servizio di emergenza territoriale. Dei rimborsi insostenibili perché non riescono a coprire neanche le spese. Noi manifestiamo per questo provvedimento che venga annullato, per adottare un altro provvedimento che comunque ci permette di espletare un servizio eccellente e professionale, e chiaramente senza rimetterci i soldi all'associazione. E chiaramente è arrivato il momento che si mettono in linea con la riforma del terzo settore, perché prevede sia la parte volontaria e sia la parte contrattualizzata, proprio per garantire questi servizi di prima necessità. Quanti soldi vi vorrebbe corrispondere la regione e che secondo voi sono insufficienti? Allora diciamo la vecchia deriviera e convenzione che ci fu nel 2008 prevede un rimborso di 12,5-13,5. Con il nuovo provvedimento che hanno emanato il 4-10 si prevede una spesa mensile di 7-8 mila, praticamente è sostenibile. La metà. Io dico, sono due anni che combattiamo una pandemia in trincea, in prima linea, questo non è riconoscente nei nostri confronti. Io spero che comunque abbiamo avuto l'incontro con il Presidente, è stato molto disponibile di venirci incontro per trovare il massimo che può dare la regione per quanto riguarda questo servizio. Entro quanto va risolto questo problema? Questo problema va risolto subito. Il 25 ottobre abbiamo l'incontro con il Presidente che si è messo a disposizione proprio per discutere queste criticità. Grazie, buona giornata.